Dottore Gambino, facciamo un po' il resoconto di quella che è stata l'estate per l'attività della Polizia di Stato a Crotone. Io dico, partiamo dagli sbarchi che ci sono stati e dall'impegno degli uomini della Polizia. Sicuramente l'attività di contrasto a quella che è l'immigrazione clandestina è uno dei principali refriani di quest'estate. Teniamo conto che le forze di polizia nel loro insieme, quindi parliamo di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, assieme alla componente dell'esercito che ci dà una mano nel cara, sono stati abbastanza impegnati. Complessivamente noi si sono verificati nel periodo estivo, nel clu dell'estate, un totale di 10 sbarchi, circa 750 migranti giunti sulle nostre coste, tra cui molti stranieri, alcuni accompagnati, altri no. Ovviamente, essendo presente il cara, noi abbiamo potuto accoglierli anche in un certo modo, nell'ambito di quelle che sono le normative attuali anti-Covid. Già da febbraio, col prefetto, avevamo stilato un protocollo sbarchi che poi è stato rivisto. E sulla base di questo abbiamo anche creato delle aree di quarantena, ovviamente con dei grossi impegni, perché oltre agli sbarchi che abbiamo avuto, abbiamo dovuto anche sopperire a quelle che erano le situazioni provenienti da altre realtà, quindi i tunisini che sono stati portati qui da realtà siciliane, poi trasferiti magari nei CPR, ad esempio in Puglia, ultimamente abbiamo effettuato appunto uno degli ultimi trasporti di tunisini presso il CPR per il successivo rimpatrio. Quindi l'impegno su questo settore è stato a tutto tondo abbastanza importante. Un impegno che è diventato ancora più complesso e difficoltoso per il rispetto della normativa anti-Covid, quindi sia per la tutela innanzitutto degli operatori di polizia, ma ovviamente di tutti quegli attori che fanno parte del sistema sicurezza sugli sbarchi, quindi stiamo parlando Croce Rossa, ASP, Vigili del Fuoco e quant'altro. Quindi sicuramente un impegno costante e continuo perché anche oggi la giornata è sicuramente gradevole e bisogna sempre stare sul chi va là sulla possibilità di questi arrivi. Purtroppo poi abbiamo dovuto registrare quest'estate, il 30 di agosto, un episodio funesto con la morte di quattro migranti. Questo loro quando partono mettono in conto che non riescano ad arrivare alla meta agognata, che poi molto spesso non è manco l'Italia la meta agognata e magari qualche nazione del nord Europa. È un fatto che è accaduto, su cui come ben sapete ci sono degli accertamenti in atto, però è un fatto doloroso, dolorosissimo, perché quando si perde una vita umana, in questo caso sono quattro vite umane, sicuramente per tutti è una sconfitta.